Ehi, ma sai cosa sto pensando? Che questo video è dedicato a te, sì sì, a te che sei terzo, terzo, terzo a meno otto da noi. Pilanista, parlo di te e parlerò e ti dirò la mia su Mr. Pioli. E perché mandarlo via è un vantaggio per voi. Iscrizione al canale, lascia un like, commenta, attiva la campanella e condividi il video. Mr. Pioli, 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 Pioli. Io credo che Mr. Pioli sia un allenatore non da Inter, Juve e Milan. Credo che le pataccate che dice Manfredi su OCV Sport siano solo grandi pataccate perché crea scompiglio e quindi crea dibattito. Ma Mr. Pioli non è da Inter, Juve e Milan. Perché? Non perché non ha idee magari sul gioco, perché il Milan non gioca male. Perché? Perché quando tu sei l'Inter alla Juve e al Milan, oltre a dover vincere, devi essere bravo a trasformare un diamante grezzo in un bel diamantone. Ok? Splendente. Un bel campione. Quando tu hai gente come Leao che due anni fa quando ha vinto il campionato era al top e quindi tutti abbiamo detto o in questo ha tutto per essere un fenomeno, però ci vuole la continuità e devi fare quel passo, quello step in più, per considerarti vero campione. E dopo l'anno dello scudetto invece il nostro Leao ha avuto sempre, secondo me, più un calo, cioè ha fatto più un passo indietro che un passo in avanti. Sempre di scontino per non guardare quest'anno che è da settembre che non segna. Poi ti arriva De Ketteler, ragazzino considerato uno dei più bravi che c'è in Europa, pagato 35 cocche, e nelle tue mani diventa De Ketteler. Da De Ketteler diventa De Ketteler. Altra tua sconfitta è mandarlo via, non aver capito le qualità del giocatore che era stato scelto da uno dei migliori giocatori del mondo, Paolo Maldini. Che dopo l'anno che ha passato è stato cacciato via anche per questa situazione qui. E da tanti milanisti io ho sentito dire, ah ma è colpa di Maldini che i soldi li ha spesi per De Ketteler. De Ketteler è costato 35 milioni, quest'anno Moncada ne ha spesi 125 milioni e vi ha portato ciucciu e elze. Il giocatore più pagato del vostro mercato. Io mi ricordo che Maldini non aveva un budget da 120 milioni, però vabbè, ma lasciamo stare Maldini e Moncada. Maldini ci arriveremo. Quindi quando io mi trovo un allenatore che non... Quando dico che devi essere da Juve, Inter e Milan, quando è arrivato Simone Inzaghi, io avevo quel dubbio lì. Non perché poteva essere chissà che, viene dalla Lasse. No, no, ma non mi fai un cazzo, l'idea di gioco ce l'aveva, anche alla Lasse. Il mio problema era, ma riuscirà Simone Inzaghi a entrare nella testa dei giocatori che possono diventare campioni e farli diventare campioni? Sì, che vi devo dire? Sì, Di Marco, Lautaro ha fatto un cambio clamoroso dall'anno scorso che era discontinuo a quest'anno. C'è la Noglu. Ma ne posso dire altri tanti. Cioè, i giocatori dell'Inter ogni anno hanno un passo, fanno un passo in avanti. Chi ha il campione, come Lautaro, lo trasforma veramente in campione, lavorandoci. Ti arriva Turam, che è un esterno? Me l'hai trasformato in una punta, forse una delle migliori d'Italia. Ok. Tu, mister Pioli, hai avuto De Kettler. Potevate riscattare Brian Diaz per 20-22 milioni, ma io lì sono d'accordo con voi. Ieri ha fatto un gran gol, va bene, tutto. Però, io forse non li avrei mai spesi quei soldi, e quindi lì non faccio neanche tanto una colpa. Leao? Io spero che Pioli vada via, perché se arriva un allenatore con i controcoglioni, forse voi milanisti vedrete quel passo in avanti che tutti aspettate. Ditemi la via, su questa, ditemi la vostra, non la mia, io ve l'ho detta, la vostra su quello che vi ho appena detto. Ditemi, perché il Milan dovrebbe tenere Pioli? Fidatevi di me, Pioli non è un allenatore da Inter, Juve e Milan. Pollinari, Lazio, Fiorentina, Bologna, quelle squadre. Ok? Buonanotte a tutti.